Avviati i lavori di cantierizzazione dello stabilimento Exapof, bene confiscato alla criminalità organizzata da oggi nel patrimonio del Comune di Eboli. Si tratta del cantiere necessario per l'intervento di rimozione dell'amianto presente. Lavori propedeudici alla definitiva segnazione del bene confiscato alla Camorra. L'intero pacchetto delle operazioni è finanziariamente a carico dell'Agenzia del Demanio per i beni confiscati. Un lavoro complesso, sottolinea il sindaco Massimo Cariello, portato avanti anche grazie all'impegno degli assessori Anna Senatore ed Emilio Massala ed in stretta collaborazione con il Comitato Cittadino per la lotta all'amianto, che per primo ha iniziato la battaglia per la bonifica e la rimozione dell'amianto nell'Exapof.